Sarà Piazza Antonio Tancredi, quella con la rotonda di Via Conte-Contin dove si trova la palla di Mastro Dascio ed è quella con l'uscita dell'8-0. È stata individuata e scelta quella per l'intitolazione all'ex parlamentare teramano e fondatore, presidente dell'allora Banca di Teramo, a cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 17 maggio 2012. Per colui che è stato il motore della città si doveva scegliere una piazza o una via centrale e la scelta non poteva essere migliore. Quella rotonda, quella piazza, infatti, è stata voluta proprio dall'Onorevole negli ultimi mesi di vita e in prima persona si è impegnato per la posa in opera della palla di Mastro Dascio che caratterizza la piazza dopo che era stata rimossa da Piazza Garibaldi ed è l'uscita dell'8-0, voluto, pensato e ideato proprio dall'Onorevole Tancredi. Pensate che l'operazione fu portata a termine a fine febbraio 2012 a meno di tre mesi dalla scomparsa dello stesso Tancredi sotto la neve insieme al sindaco Brucchi di resse ai lavori. La vita politica di Antonio Tancredi è stata caratterizzata dalla lunga militanza nella democrazia cristiana prima come capo di gabinetto dell'allora sindaco Carino Gambacorta poi come consigliere e assessore regionale e infine come deputato per ben quattro legislature vale a dire l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima. Terminata l'avventura politica ha fondato la Banca di Teramo che ha guidato in maniera impeccabile per 16 anni. Sarà stato un caso ma scomparso lui è finita anche la vita dell'istituto di credito assorbito ultimamente dalla banca di Castiglione Messerraimondo e Pianella. L'intitolazione della piazza avverrà nel giorno del quinto anniversario della scomparsa così come prevede la legge ed era il sogno di Tancredi quello di avere una via o una piazza a lui intitolata. Ne aveva un altro che il suo istituto di credito gli realizzasse un busto in bronzo da mettere su Viale Mazzini dove lui aveva creato quella zona con opere d'arte e aveva lasciato anche lo spazio per poterlo posizionare. Questo forse resterà irrealizzato perché chi ha gestito la banca dopo di lui non ha preso minimamente in considerazione la richiesta.